Sabato 7 settembre La terza edizione è stata aperta dalla banda musicale Buonaventura Somma, alla presenza del sindaco di Chianciano, Gabriella Ferranti e Lonnie Schlein, famoso fotografo internazionale che ha collaborato con il New York Times nella città termale per gli scatti ufficiali dell'evento. Ancora non ho finito di visitarla ma posso dire che già dai primi pezzi è straordinaria e poi devo dire mi piacciono molto le mostre, questa è una biennale, che presentano quello che è il futuro dell'arte perché vuol dire dare spazio ai giovani, ai nuovi artisti, a coloro che sono il futuro della nostra cultura. Questa biennale vale la pena di essere visitata, è un evento culturale di dimensioni importanti per Chianciano Terme e per tutto il territorio. Io direi che dal momento che ospita da 30 nazioni più di 100 artisti, è un evento culturale di grande dimensione e di grande importanza a livello nazionale e internazionale. Molti gli eventi culturali collaterali della mostra, dai concerti alla presentazione del libro Il mestiere del parto della dottoressa Patrizia Mari, dai workshop sui siti internet d'arte alle degustazioni del Brunello di Montalcino e del Chianti. Gli eventi collaterali dureranno fino a sabato 14 settembre, quando la biennale chiuderà i battenti con la cerimonia di premiazione. Ricordiamo che la mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 con ingresso gratuito.